Salve a tutti franzo al vostro supercorri Stadan! Eccoci qua ragazzi Proviamo Forspoken Demo Ricordo che questa è una demo che trovate sul Playstation Store Gratuita E raga ho visto dei gameplay e ho detto lo devo provare Perché ho visto che è una grafica sontuosa Quindi mi sono detto Devo provare questo titolo, devo capire un po' come funziona Anche se non è proprio il mio genere Ma io sono uno che ama comunque scoprire Sempre nuove cose quindi Non mi focalizzo sempre sulle stesse situazioni Quindi nuova partita Andiamo a vedere un po' ricordo che questa è una demo e quindi alla fin fine Non è proprio il gioco completo Potrebbe subire come vedete pure qua Delle variazioni ma a noi ci va bene lo stesso Perciò andiamo a vedere un po' come va Sperando di divertirci E che sia un gioco bello Io effettivamente non ho visto manco se è un gioco Che poi verrà Fatto anche su PS4 A Xbox One Non lo so Oh Oddio raga Andando così graficamente mi sembra tanta roba Andiamo a cercare di capire Già il modello del personaggio un po' di meno Però questi giochi di luce Ai 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 Non lo so ragazzi Sì non lo so Mi sembra intrigante come gioco Ma ci devo capire qualcosa di più Praticamente non mi sembra male ma Non riesco a capire se è un gioco finalmente next gen Che ci possiamo godere o no Comunque l'invito è quello di iscrivervi a questo Al primo canale SuperChoris84 Al canale SuperChorisShorts Al canale Fitness Al canale Fitness con Radio Esposito Personal Trainer Al canale delle offerte Amazon SuperChoris offerte Amazon Grafica bellissimo Qua speriamo che sia quella Di Telegram Al canale di Telegram Al ufficiale SuperChoris84 A Fruit Lab E al canale Viola No Che tutorial Che ce l'ho fatto il tutorial Eh ragazzi Non è male Vai al rifugio Sconfiggi i nemici Immergi nella fonte scarlatta Migliori i tuoi poteri magici Al monumento della forza Tieni il mantello E vai Allora Con questo saltiamo Con la X Con questo facciamo questo sfocamento Con questo corriamo Allora ragazzi Graficamente è bello È molto bella la vegetazione Stile a Plagtal Requiem Quindi questo mi porta a pensare Che probabilmente si può fare Su PS4 Questo titolo Però comunque subirà Delle inevitabili Limitazioni Però non vedo nulla Che sia esclusivo Next Gen È buona la grafica Ma Non lo so Non mi fa ancora pensare Che sti fa Sì Allora Allora Fammi vedere Ecco vedi Sorella Deve picchiare cicciopasticcio Cicciopasticcio Bello Abbiamo capito Come si fa C'è boh C'è una propulsione In lei Solita texture Che si caricano Quando arriviamo Ma che dobbiamo fare Questa è una propulsione Oh c'è E' molto agile La sorella Qua Cazzo Oh, come on! Ok. Grazie a te. Che finisci il lavoro! I sometimes wonder what you think I'm here for you, Dad. I sometimes wonder how come a little guy like you makes such a good shield. Sì, ma porco di lourde, dai! Allora, stretta. Imprigioni nemici, lungo roviglio. Questa qua voglio... Niente, non riesco. No, ecco qua. That's not doing much. Look out! Compete quei pezzi, dai, ma! Ancora sei morto? Va bene, va. Andiamo, va. Ho capito. Non c'è una corsetta, va. Che è? Un cervo? Minchia, pur lo cervo sta ingazzato. Oh, cazzo, voglio... Non capisco per mirare come minchia si fa. Cazzo, è un'escritto. Perreggimento che dottese a me accadere ai Tutto. Non c'è una cosa. Ma, può fare un senso, non c'è una canina. Sì! Non sono stati Sì! Non è... Non c'è una canina. Non c'è una canina. Non c'è una canina. Non c'è una canina. Allora mi sembra un gioco dettagliato Con parecchie cosucce Però non mi sembra Nulla di sconvolgente No Minchia Sono cascati dal ponte Schivare In battaglia puoi usare Il parkour magico per schivare gli attacchi nemici Premio al momento giusto per scansarli Puoi anche premere Mentre usi il parkour magico Sì a me ma dici come se la fa attaccato Allora che devo premere qua Questa è per sparare Oh cazzo I piccioni assassini Perchè spara Oh santo oddio Zit zit che mi ho trovato la spada forse Oh santa madonna Venite venite Un po' affetto Com'è il prosciutto cotto Oh mochi Finalmente abbiamo un'arma Pure l'acqua Non mi sembra molto realista Cioè boh Graficamente sì Non è male Ma non è A me non mi sembra Next gen Sto gioco Ma dove minchia stiamo andando Oh eccoli qui Oh eccoli qui Senti com'è bello Spacca tutto Sbapri questa Eh va bene Allora andiamo di qua Cioè i giochi di luce mi sembrano Rifiniti Certe cose no Però è certamente un grandissimo open world Chi è a gusto? Orco zio il cocodrillo con le corna Volevo andare ammazzati steno a do Un'angola Eva Ma la nostra Piccolina Ecco qua vedi in certi punti Cioè Allora la vegetazione sicuramente è bella Alcune Texture sono belle Alcuni giochi di luce Però nella totalità Ne me sembra Non gioca troppo Boh Questo è un giro Ma poi tutti Boh Non so Dobbiamo uccidere tutti a prescindere Noi Minchia sorella Cosa di merda Guarda sto stronzo Non ho fatto in tempo A prenderlo Forse pochane Ah sì Andarli per il tuo fratà Siete qua Ah Lo scrigno magico Lo scrigno magico Bieni 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 Asz Kaccia E Angol Lua mini Lucertola Beh si raga Nella totalità non mi dispiace Non è malaccio in tutto Però se capi bene Quello che dobbiamo fare Dove essere solo una prova lercia Giusto per Non è il mio genere di giochi Cur cicciola Oh cazzo Ma perché ti butti sempre Ti piace buttarsi a cicciola Non lo so ragazzi Non mi sto né dispiacendo Né entusiasmando più di tanto Ragazzi l'acqua è bella Ma Pazzì che menzo scherzo Non so se ci siamo capiti Non posso continuare a camminare Non lo so ragazzi Non lo so Non so che dirmi È molto un gioco incantato Con atmosfere incantevoli Cioè questa che la spada È non portante Sta ragazza Guarda che cazzo Stare va I nemici sono un po' scemi Sono Non lo so Che cazzo Ma perché Per queste rovine Cioè sì Sono belle ma Non si sa Ci sta qua Nelle rovine incantate Io se fossi i nemici Mi farei cazzi loro Perché questa Spacca tutto Sta bardaccia Tipo flash Oh my god Ma che zompettio che ha Un sacco di rovine Oh no Ma gli sto propondo Sali sopra Sali sopra Arrampicati Possiamo zompettare Sì Possiamo pure arrampicarci Oh che figata Peccato non mi piace per niente Come parla Molto più bello Se fossi in italiano Chi sono questi Non mi sembrava Sto spavendo Sì 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 Da questo sta ingazzato. Dove vai? Suzzo. Minchia che colpo pirotecnico che gli abbiamo sparato a ciccio pasticcio qua. Vado a vedere se ci sta pure. Oh cazzo. Ma piglia il coso grosso. Cioè, no, il coso grosso. C'è successo? Dove siamo? Gola, l'ho uccisa! Ah, vedi, si carica. Tipo Zelda. Questo dovrebbe essere facile. Vabbè ragazzi, dai, l'abbiamo provato. Abbiamo visto graficamente che non è male. Abbiamo capito un po' tutte le storie di sto gioco. Era solo per provarlo, visto che sta gratis. Ho detto proviamolo. Sarà una novità che molti aspettano. Vediamo se ci sta pure su Xbox. Magari facciamo una piccola prova pure là. Ragazzi, spero che vi siete divertiti. Ci vediamo nei prossimi video. Il vostro supercorso. Ciao, voglio. Ciao.